Mi chiamo Bianca, ho 40 anni, è una vita piuttosto normale. Mi occupo della mia bambina, del lavoro, ma da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me, utilizzando il trucchetto di un titolo sensazionalistico. Sul mio lavoro ad esempio leggo Bianca Guaccero cacciata da Rai 2, fatta fuori, licenziata in tronco, lo strazio della conduttrice. No, non è vero, nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato da nessun posto. Sono una donna che decide la sua vita e che prova a migliorarsi, una professionista. Ho condotto un programma per 4 anni, ora volto pagina. Ma poi leggo un altro titolo. Bianca Guaccero, la triste confessione sulla malattia, non si può curare. Sapete quale malattia ho, che merita un titolo come questo? Ho il reflusso gastrico. E poi, addio Bianca Guaccero, la fine è arrivata, è finita così, non ha potuto fare nulla, la malattia è tornata. Questo invece per quando ha avuto il Covid. L'ho avuto due volte, è pazzesco, vero? È successo solo a me nel mondo, sbaglio. Ogni giorno leggo articoli falsi sul mio lavoro, sulla mia vita privata e persino sulla mia salute. E per cosa? Perché qualcuno deve fare dei click, quindi dei soldi. E il rumore di fondo diventa pettegolezzo. Ma lo sapevi che è stata cacciata dalla RAI? Che è malata? Poverina. Questo periodo dovrebbe averci insegnato che l'informazione è una cosa seria. È la macchina del fango, orchestrata da alcuni, che non guarda in faccia nessuno e niente, senza scrupoli, che inventa cazzate solo per il proprio tornaconto. È vergognosa. Grazie. 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 Grazie.